allora buonasera a tutti che le parole che vengono dal cuore entrano nel cuore e registro dopo praticamente due settimane mezzo tre settimane quindi sono contenta che siamo qua insieme è il mio è il mio privilegio perché ogni volta che inizio questo show sono stanca ogni volta che finisco show sono piena di di energia quindi grazie grazie di essere con noi di essere con me di aiutarmi in questo che insomma il rabbi mi ha chiesto di 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 condividere quello che studio e quindi grazie di supportarmi oggi il 21 di Adar è la ilula di rabbi Elimelech di Lezinsk ben Eliezer, rabbi Eliezer ed è un un grandissimo un grandissimo khatzid era più o meno coetaneo anche se più anzianio della Nura Zaken e infatti quando la Nura Zaken scrive il Tanya chiede a il fratello di rabbi Elimelech, rabbi Zusha, di scrivere un'introduzione, un' approvazione al Tanya perché lo stesso Nura Zaken parla del Tanya come una raccolta di scritti di come se fossero di altre di scritti di altri no? È semplicemente una compilazione chiaramente non è una compilazione è un lavoro rivoluzionario tanto tanto che a un certo punto in cielo gli hanno fatto un mischpat, un chiamano così un giudizio e per questo veramente è stato arrestato in cui è stato fermato questo processo di divulgazione e dopodiché ha vinto il processo e quindi anche vinto il processo in questo mondo materiale. Quindi rabbi Elimelech di Lezinsk è un pochino più anziano ma più o meno collettagno della Nura Zaken e terza generazione dal dal Val Shemto perché era lui stesso un allievo di Magidem Isrich e c'è tutta una storia per la quale i suoi genitori hanno meritato questi due grandi fili così Zadikim molto molto uniti tra di loro ma grandissimi Zadikim ma una storia che voglio condividere una storia che mi ha mandato mio fratello e che è molto legato a quello che stiamo studiando in questo periodo perché come come ho sempre detto tutto quello che noi studiamo eh sia dalla parte diciamo della della parasha Tashavua sia di Tania sia di Mamarim sia di Sihote insomma è tutto con c'è un filo conduttore eh molto ehm molto forte e quindi riprendo questo filo conduttore che è molto bello perché è è semplice e come abbiamo detto quell'altro giorno con alcune amiche ci ha pomeriggio è molto difficile essere non è semplice essere semplici molto complesso però se ci arriviamo facciamo tanto ordine ed avere tanto ordine in testa e nel cuore è un grandissimo vantaggio quindi la piccola storia che voglio condividere è la storia di Elimele e la riassumo ad un certo punto Rabi Elimele innanzitutto sia lui che suo fratello Rabi Zusha hanno avuto una vita poverissima ma di una grandissima Simcha questa grandissima Simcha con una mancanza della materialità molto forte la cosa particolare però è che per quanto lui ehm perseguiva diciamo così una vita di grande eh semplicità di grande ristrettezza e materiale tra virgolette chiedeva ai suoi alunni di non fare questo e di investire molta energia nella Simcha ma non non avere diciamo così ristrettezze fisiche non avere non automortificarsi non non avere questo tipo di di atteggiamento e mh ad esempio quando noi andiamo a di Shurim specialmente di Shurim e magari di un bet habat soprattutto ma adesso è comune per tutti molto spesso sul tavolo c'è qualcosa da spilucchiare da qualcosa da mangiare perché questa cosa non è in realtà uno parla di Torah e tutti in chom chom che mangiano patatine da dove nasce questa cosa questo diciamo così usanza per virgolette di avere qualcosina da mangiare di spilucchiare sul tavolo è da da dare al anche alla fisicità il suo buon contento no se uno se ci fa bene diamo questo buon contento così come si dice che quando si inizia inizia un Shur Torah è bene cominciarlo con una storiella magari una barzetta qualcosa che ci mette di buon umore ci magari ci fa ridere o sorridere perché quando noi siamo anche anche il cervello anche la nostra capacità di capire si apre e quindi magicamente siamo più aperti ad assorbire quello che verrà spiegato insegnato condiviso tornando alla nostra storia Rabi Elimele quindi aveva una vita molto semplice come suo fratello Rabi Zusha ma chiedeva ai suoi termini di non perseguire questa strada di chiamo così di enorme semplicità e di investire tantissimo nella Simcha a un certo punto non non si sa per quale motivo cadde malato tanto che oggi diremo che è entrato una specie di coma e solo dopo grandi preghiere di tutta diciamo i suoi tutti i suoi alunni una mattina un giorno si è risvegliato e raccontato la seguente storia che chiaramente mentre nel coma la Neshama è salita e è divenuto incontro un la Neshama di un di un grande salì che ha scritto un testo molto importante e gli ha spiegato io sono qua perché ho scritto questo testo di Torah molto importante quindi tutti quelli che studiano questo mio testo mi mi fa salire fa star bene la Neshama fa salire la mia Neshama e gli racconta che di là c'è un castello molto bello adesso non ricordo di quale c'è di che una e lì c'è un betamidrash una una yeshiva e quindi il rabbi di melech si dirige in questa yeshiva e trova davanti alla porta della yeshiva di questo palazzo bellissimo un uomo che conosceva perché era faceva parte del suo villaggio e dice Mordecai ma cosa ci fai qua e dice non mi chiamare Mordecai chiamami Reb Mordecai ok stupito e dice ma ero una persona estremamente semplice nella nella tua vita cioè sì ma qui in Shema e hanno deciso che mi chiamo Reb Mordecai non Mordecai e dice ma com'è che sei alle porte di questo betamidrash e cos'è yeshiva di elite infatti sono qua sto soltanto invitato e sto aspettando di poter entrare e Reb Mordecai chiaramente le Neshama sono telepatiche chiaramente condivide il fatto che questo Mordecai era semplicemente una persona estremamente semplice non era un grande erudito di Torah e tutta la sua vita era stato un rilegatore di testi quindi lui rilegava i i i i i testi li rilegava qui parliamo della fine del 1700 quindi c'erano manoscritti scritto a mano iniziando la stampa che mi hanno detto che il Tania venne stampato effettivamente ma diciamo all'epoca di questo sogno probabilmente la stampa forse non era ancora in uso e c'erano manoscritti che venivano copiati a mano e rilegati quindi questo Mordecai aveva il lavoro proprio di rilegare i libri e di conservare la la biblioteca di Kodesh della città e il Mordecai racconta quindi la storia io quando la mia Neshama è salita e sono andato davanti al tribunale celeste e hanno messo sulla bilancia tutte le mie azioni positive hanno messo l'azione sulla bilancia le mie azioni negative i miei errori le mie mancanze e purtroppo le azioni positive non bilanciavano quelle negative e quindi i Bet Mishpat mi hanno chiesto se avevo qualcos'altro da dire ma io sono un uomo semplice non sapevo non sapevo che cosa aggiungere e quindi ho accettato il fatto che sarebbe dovuto andare in Gay Nom a fare perché il Gay Nom è nel nel sono non voglio entrare nei dettagli ma è un processo di purificazione proprio della Neshama che ha bisogno di rielevarsi a uno stato tale dal poter salire ed essere e ripulirsi tra virgolette per questo noi facciamo anche Kadish negli unici mesi che una persona manca si fa Kadish proprio per dare benzina energia alla Neshama che deve passare un processo di purificazione di lavatura tra virgolette si deve rilavare ripulire così come dovrebbe essere e quindi il nostro Kadish le nostre Mitzvot le nostre nostre azioni per la Neshama di questa persona aiuta la Neshama a rinforzarsi in un momento non semplice e quindi mi stavo avvicinando a quello che erano le porte del Gay Nom e due diciamo due due partecipanti del bet di di questo tribunale sono venuti mi hanno ripreso mi hanno riportato al tribunale celeste erano tutti gli seduti così come li avevo lasciati e vedo arrivare dei carri pieni di sacchetti che passano e questi sacchetti vengono presi vengono caricate sulla bilancia messe sulla bilancia negli atti positivi e in poco tempo la bilancia si pareggia e poi le azioni positive surpassano quelle negative e quindi il mio accumulo di buona azione in questo mondo era sufficiente tale da poter accedere direttamente al Gan Eden e che cos'erano queste? E allora lui dice non so che cosa c'era in questi sacchetti perché non capivo io stesso non riuscivo a capire che cosa ho fatto nella mia vita che potesse e che mi avesse aiutato così tanto ed è uscita una voce dicendo da ora Mordecai non si è stato invitato in questo a Yeshiva in questo castello magnifico per poter studiare con questi grandi talmi di Chachamim chiaramente io mi rendo conto che non sono a livello ma evidentemente ho fatto qualcosa nella vita che mi ha dato questa opportunità e cosa c'erano in questi sacchetti? C'erano tutti i libri che lui aveva rilegati nel corso della sua vita professionale tutti i sefrekodesh che lui aveva minuziosamente perfettamente con amore rilegato uno dopo l'altro e siccome lui era molto minuzioso e molto attento a ogni piccolo dettaglio anche le pagine bianche di un sidur non venivano buttate ma venivano recuperate e c'era cavò c'era onore lui dava onore e prestigio a ogni libro su cui lavorava e questa minuziosità questa attenzione al suo lavoro di tutti i giorni che per lui era il suo lavoro con cui ha sfamato la sua famiglia questi questi gesti questi questi sono i sacchetti le migliaia di sacchetti che sono arrivati a favore a mio favore per questo sono diventato sono salito a livello di un di un tal mit haham e a quel punto la porta della yeshiva si è aperta la neshamah di questo uomo di Mordechai è stata accettata dentro la yeshiva e l'esusea cerca di entrare ma la porta è chiusa a chiave lui non entra in quel momento si risveglia e torna nel al al cento per cento del suo corpo ma si ricorda questo sogno e quando ho cominciato così a pensare a questa storia ecco qual è l'insegnamento che Rebiele Meller ci vuole dare o comunque io ho portato ho preso con me ed è molto legato anche quello che andiamo a studiare Tania in questo periodo mi permetto di leggere un piccolo picco una piccola parte di un Tania di qualche giorno fa nel capitolo precedente non è il capitolo di questa sera ma il capitolo precedente capitolo 35 stasera leggiamo il capitolo 36 ma che ha un impatto secondo me fortissimo e se lo sapessimo vivremo la nostra quotidianità se noi sapessimo l'importanza di nostro ogni passo ogni nostro gesto non solo vivremo in grandissima gioia ma questo ci porterebbe anche ad essere estremamente sereni e senza paure questa è la famosa Bittahon nel capitolo 30 35 la Dmura Zaken spiega una cosa incredibile dice Hashem crea questo mondo con tutti i passaggi della creazione del mondo perché abbiamo spiegato tante volte qual è diciamo così ehm qual è il problema di avere un mondo finito con una con una con una che è infinita che tutto che è tutto no così questo concetto del del ristringimento tutto questo processo di ristringimento tra virgolette chiaramente che la risa spiega che spiega molto bene in in Tania e per avere un mondo finito un mondo così finito e così dove la presenza di è così celata che che una persona può dire non solo io non sono stato creato da ma mi sono autocreato no come diceva il faraone sappiamo che era una forza di 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 magie di 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 conoscenze ehm esoteriche chiamamelo così molto potenti quindi tutti questi step questi passaggi di creazione del mondo perché fosse possibile per il mondo e tutte le creature che ci sono nel mondo di esistere ed essere create ex nilo perché da da Hashem Hashem crea dal nulla come entità separate perché noi ci sentiamo separati io sono io ho la mia individualità il mio pensiero ho la mia testa ho il mio carattere ho la mia fisicità io se mi faccio un pizzicotto io sento il pizzicotto non penso che lo sentiate anche voi ok ognuno ha sua individualità che in realtà sono null nulle o nullificate davanti alla presenza di Hashem davanti alla vera esistenza che la esistenza di Hashem e le mitzvot sono la volontà di Hashem in questo mondo ed è l'espressione della volontà di Hashem in questo mondo vuol dire che Hashem c'è una volontà che noi non possiamo neanche né immaginare né capire che ma è infinita e questa volontà infinita come un raggio converge con un triangolo converge in una mitzvah quando 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 noi facciamo una mitzvah noi noi facciamo in questo mondo materiale un tocchiamo un punto in questo mondo materiale che è una proiezione di qualcosa di infinito ma chiaramente vivendo in questo mondo materiale noi non possiamo gestire l'infinito nel allo stesso livello abbiamo delle cose che sono finite le mitzvah sono le mitzvah finite per questo devono essere fatte secondo l'alaha in modo preciso modo da chiama così fare quell'incastro perfetto che Akadosh Baruch Hu ci dà attraverso la mitzvah ma la mitzvah che è un'azione singola in questo mondo materiale in realtà è la proiezione di una volontà infinita di Hashem ed è l'espressione della volontà della creazione di questo mondo e dove dove la presenza divina è occultata e andiamo avanti c'è nella mitzvah la volontà di Hashem e la la portata così chiamiamola così spirituale di Hashem non è celata per questo una persona che fa tante mitzvot glielo si vede in viso glielo si vede in faccia non c'è quando abbiamo una persona che fa tante mitzvot non ce lo raccontano la guardiamo questa è una persona che fa tante mitzvot magari non ha barba non ha cappello non ha non sappiamo esattamente che cosa come è vestito ma io lo si legge in faccia perché adesso andiamo a vedere dice l'almurza che ci spiega facciamo un esempio come una persona qual è tutta questa proiezione del mondo Hashem crea questo mondo materiale con tutta la sua ricchezza complessità fine ultimo mitzvot per il popolo ebraico anche gli altri popoli hanno delle mitzvot le sette mitzvot benem noah ma chiamo così il focus grande siamo noi che dobbiamo fare le nostre 613 mitzvot e dice così come un uomo lavora ed è occupato nel lavoro tutti i giorni perché deve portare a casa un profitto deve portare a casa una parna sa per per sostenere la sua famiglia e prosperare quindi la mattina l'uomo si sveglia e dice io oggi devo guadagnare è chiaro che se una persona rimane diciamo salda in questo suo eh spettro di obiettivi ricorderà sempre che l'obiettivo principale non è quello di il vero obiettivo non è quello di fare profitto il vero obiettivo che si alza la mattina non è andare a lavorare per il fine di lavorare ma il fine di lavorare chiaramente per supportare la sua famiglia ognuno secondo le sue esigenze ma chiaramente il fine il fine del lavoro non è di andare a lavorare non è il lavoro stesso ma è poter portare a casa un profitto mantenere la propria famiglia quindi il lavoro e il profitto di un lavoro il guadagno di un lavoro è funzionale al fatto che c'è una famiglia da sostenere e questo è il vero scopo dell'uomo che si alza la mattina e va a lavorare ed è molto si vede molto bene quando un uomo è sposato a dei figli anche se un lavoro non funziona lo cambia c'è una flessibilità perché perché lo scopo è è è la famiglia non è la carriera perché non è che se qualcosa non funziona la sua carriera allora tireremo in barca no va avanti cerca di trovare nuove soluzioni e allo stesso modo la volontà di Hashem che è espressa in questo mondo materiale si esprime attraverso le mitzvot la il desiderio di Hashem di creare un mondo materiale è funzionale perché noi ne sciamot di Amistrael in un corpo facciamo le mitzvot per questo motivo si dice che quando Hashem ha dato su Matan Torah Matan Torah Shavuot c'è un Midrash che dice che Hashem ha tirato su Arsinai e ha minacciato tra virgolette il popolo ebraico dicendo ho accettato la Torah ubicato la montagna in testa perché perché se non c'è un popolo ebraico che fa le mitzvot lo strumento diciamo diciamo il palcoscenico chiamiamolo così per il nostro per il nostro atto è vuoto chi va al teatro per vedere un palcoscenico spento nessuno non andiamo al teatro perché un palcoscenico serve per gli attori per fare il loro teatro per fare il loro show stesso modo a crossbroke crea un mondo in tutta la sua complessità di creare diciamo ovvio perché per Hashem non è cambiato niente ma in questo mondo così ricco in cui Hashem per permettere al mondo di esistere si nasconde quindi c'è anche una grande Hashem aspetta che noi gli diamo poche parole che ci ricordiamo del ma Hashem non lo grida da sola da solo aspetta che noi lo cerchiamo il massimo della riservatezza del ma tutto questo scenario di mondo è perché noi facciamo le mitzvot se noi riflettiamo su questo ci rendiamo conto che qualsiasi cosa che facciamo nella nostra quotidianità e ovunque noi ci troviamo è perché noi possiamo fare le mitzvot quindi noi abbiamo detto che la neshama scende in questo mondo materiale perché possa elevare la neshama behemit possa raffinare la kippadnoga questa scorza neutra che è dentro di noi e elevare la nostra neshama behemit con la sua vitalità elevare il nostro corpo materiale perché il nostro corpo materiale ha un'essenza spirituale ancora più elevata e tutto quello che ci circonda perché lui lì dove ci troviamo fa parte del nostro porzione di parto coscenico e lì dobbiamo operare questo vuol dire che quando ci troviamo una situazione in cui che non ci piace e che troviamo difficile molto spesso la risposta non è scappare molto spesso ogni caso a sé ma molto spesso la domanda la situazione è come io posso cambiare dentro di me qualche cosa che modo da proiettare qualcosa di proiettarmi diversamente lì dove mi trovo e poter fare quello che ho da fare e se io mi trovo da qualche parte chiaramente è perché lì c'è qualcosa da fare che ogni tanto c'è anche da prenderla e andarsela gamba ma di solito se il mio lavoro è in un certo posto piuttosto che se il mio abito da qualche altra parte perché lì ho la mia siamo tutti sono tutti inviati di abbiamo tutti un lavoro da fare quindi riconnettendoci con la storia e riprendendo questo questi spunti di questo capitolo 35 di 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 cui te ha marim del se fra benoni del tania mi sono detta quest'uomo non sapeva cosa ci fosse nei sacchetti perché per lui era semplicemente il suo lavoro era la sua in Italia si svegliava la mattina andava a lavorare andava a relegare i libri riordinare i libri lo faceva con tutto il cuore con la massima accuratezza possibile chiaramente per poter sostenere la sua famiglia anche se probabilmente non era un uomo ricco ma l'ha fatto con tutto il cuore nel modo migliore che potesse e questo fa parte dei suoi meriti senza andare troppo lontano dobbiamo andare troppo lontano ricordiamoci che l'admura zaken ha scritto il tania su una frase di moshera benio che dice la cosa è molto vicina al tuo cuore in tutto quello che ci succede molto spesso nella nostra vita non è qualcosa che è chilometri lontano dobbiamo attraversare i mari deserti molto spesso molto spesso qualcosa che c'è molto vicino è molto spesso qualcosa che così vicino che si tratta di noi stessi perché poi arabia chiva diceva ha detto prossimo come te stesso e che cosa vuol dire amare me stesso da dove comincio magari sono gentile con tutti quanti e con me stessa mi dimentico di cosa stiamo parlando e quindi veramente io faccio abatistrael con gli altri se io non sono capace in primis abatistrael con me dove dov'è dov'è l'inizio questo e quindi adesso entriamo nel merito di della del capitolo 36 e racconto un'altra piccola storia che realtà io ho visto anche il video visto il video di questa intervista e l'hanno pubblicato in un giornalino settimana scorsa legata alla parashat a shavua ed è la storia della città principale della Siberia che adesso non mi ricordo come si chiama e un ravi israeliano e quando si sposò come giovane Bakur esciva appena uscito dalle esciva si sposò e una delle condizioni con sua moglie era quella di andare in Shlokut ovunque tranne in Russia questa era la condizione di sua moglie quando si erano sposati quindi andiamo dappertutto come vuoi dove vuoi ma la Russia no non ricordo per quale esattamente motivo a un certo punto però decidono di fare comunque un viaggio in Russia come per dire abbiamo fatto la vi siamo andati ma chiaramente una visita di cortesia andiamo e andiamo via e quando sono andati sono andati se sono nero sono andati a Mosche hanno incontrato il fratello più grande di Roma e chiaramente penso che sia capo rabbino di tutte le russe e lui gli disse gli menzionò proprio questa posizione vacante in questa città del nord e ehm menzionando come c'era comunque una bella comunità ma che mancava assolutamente una presenza ebraica in modo da rinforzare la la comunità e tutte le strutture perché sappiamo che il uno dei principali ehm così scopi del 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 sharia è quello di creare una struttura ebraica quindi un betacnesset un mikveh kashrutte lezioni ehm un asilo una scuola e passi per shabat che ha bisogno diciamo l'infrastruttura soprattutto e quindi loro decidono di andare così a visitare questa comunità ma proprio andare e scappare chiaramente arrivano in questa città dove il betacnesset non esiste è un una specie di basement una 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 stanza di una specie di bunker basement la comunità è piccola e e e e frammentata comunque la maggior parte sono persone molto anziane che non si capisce per quale motivo sono rimaste a vivere in quella città così eh sperduta ma che è una grossa città diciamo anche una una grossa diciamo zona eh importante centro economico ehm e ehm e fanno lì furì il giorno dopo eh il rav ehm va si dirige a betacnesset pensando di portare indietro un libro che va preso in prestito e con suo orrore vede che questo bunker sinagoga era stato vandalizzato e erano state eh rotte le porte si erano stati aperti i i stifferetti l'aronacodici insomma era stato ehm vandalizzato da un gruppo di locali e ehm in un battibaleno ehm arrivò la stampa penso che Rav Lazar chiamò la stampa e questo Rav Chabad israeliano che non parlava neanche russo si ritrova davanti a tutte le televisioni russe e tutta la stampa anche interna internazionale a parlare di questo atto di vandalismo così spiacevole e lui di e lì fecero questa domanda ma tu sei i di questa città? Dice sì io sono il rabbino non sapeva cosa dire ha risposto sì io sono il rabbino di questa città e così come l'ha detto si è reso conto di aver fatto un'affermazione assurda perché era proprio esattamente il contrario di quello che lui voleva di quello che sua moglie aveva chiesto. e in questa intervista così last minute chiaramente in inglese se non se non se non se non se l'aspettava dice anche non è giù non è possibile che questa questo un centro così importante non abbia una sinagoga appropriata e che la comunità di parità non si occupi di costruire un un una una sinagoga che eh così come dovrebbe essere per la comunità di questo di questa regione che così dove gli ebrei hanno così sofferto perché noi sappiamo che migliaia e milioni di ebrei sono stati sono stati deportati in Siberia in condizioni di vita assolutamente terribili. Finita questa breve intervista di qualche minuto questo rabbino si ritrova tra sé e sé e con la moglie a rendersi conto che che era successo qualcosa di estremamente strano nel giro di ventiquattro ore invece di essere una visita lampo per dire a sta la vista non torno qui perché fa freddo perché non è la comunità che pensavano si è ritrovato ritrovato davanti a mondo visione a dichiarare che era il rabbino della città e quindi si è reso conto che evidentemente benché lui non volesse che sua moglie ancora meno aveva qualche cosa da fare lì e Asham l'aveva messo lì in un momento particolare sappiamo che a Dars soprattutto quando intorno a Purim c'è tutto questo concetto del naafoco cioè il Purim è la festa della materialità quindi nella materialità noi facciamo facciamo la differenza quindi un mese in cui si investe in contratti in contratti se c'è un tribunale si fa in Nadar insomma tutte quelle cose che sono molto tecniche materiali si fanno principalmente in Nadar perché in Nadar c'è questo Masal che ci porta con sé no? e quindi e quindi è diventato il rava di questa città un anno dopo la municipalità aveva costruito un grande betacnesse e la comunità che pensava che fosse molto piccola in realtà era molto grande e quindi oggi sono passati non so dieci quindici anni e continuo ad essere lì e a continuare alla società quindi questo vuol dire che anche lì dove non vogliamo andare se poi ci ritroviamo vuol dire che c'è qualcosa da fare da noi capirlo e accettarlo quindi abbiamo detto che nel capitolo precedente capitolo 35 la Dura Saken ci spiega che quanto l'importanza di osservare le mitzvot è lo scopo della Torah e della creazione di questo mondo la l'essenza divina la luce divina che noi creiamo facendo la mitzvot che catalizziamo facendo la mitzvot è uno stato talmente puro che è l'olio che accende che tiene viva la Shekinah che accende diciamo illumina la Shekinah che è sopra di noi solo un olio può essere bruciato da una fiamma è un combustibile adatto a una fiamma se è un combustibile se noi mettiamo una miccia nell'acqua e accendiamo chiaramente non c'è fuoco quindi perché ci sia fuoco anche nel mondo materiale abbiamo bisogno di un combustibile che sia un combustibile e che la miccia possa riprendere dal combustibile per poter mantenere viva la fiamma allo stesso modo queste chiaramente sono delle spiegazioni così materiali però noi abbiamo la Shekinah che risiede sopra di noi per questo gli uomini mettono la kippah per questione di kabod nei confronti della Shekinah sopra di loro che è sopra di noi le donne non hanno bisogno di ricordarselo bisogna ricordarci che c'è qualcosa sopra di noi di portare rispetto e noi siamo la miccia noi siamo fisicamente la miccia questo chiamavano catalizzatore cos'è il combustibile? Il nostro mitzvot quindi l'essenza della mitzvah quando noi facciamo una mitzvah l'essenza della mitzvah è perfettamente in linea è lo stesso DNA è la stessa essenza della Shekinah perché se no non servirebbe a niente non brucierebbe per virgolette per illuminare la Shekinah quindi l'essenza della mitzvah che noi facciamo è un livello spirituale altissimo che si in osmosi con la Shekinah e noi siamo il veicolo fisico che permette questa unione per questo motivo di nuovo le persone che fanno tante mitzvot e ovviamente studiano anche tanta Torah quindi fanno anche le mitzvot ancora meglio con tutte le cavanotte eccetera ma semplici semplici c'è una persona che fa tante mitzvot glielo si vede in faccia perché proprio la Shekinah lo illumina glielo si vede così come la sua casa si va nella sua casa c'è qualcosa che ci fa stare bene quante volte si dice vado in questa casa è una casa molto semplice ma io sto bene lì dentro quante persone sono andate alla casa di Rav Kanievski che pare io non sono mai stata ma pare che fosse un metro per un metro c'è una casa minuscola con pile di roba da tutte le parti eppure tutti attaccati lì come dei magneti perché? Perché sentivi la Kedusha perché anche l'aria si purifica e si eleva quindi quanto noi più eleviamo l'aria che ci circonda con la Zedakah, con il Vivret Torah, con parole buone con il Mizzotto, più purifichiamo l'aria che intorno a noi quindi più sentiamo armonia di dove ci troviamo quindi la domanda è com'è che Akorosh Barucho crea questo mondo materiale? noi parliamo sempre di Ganede, di spiritualità, di mondi superiori c'è sempre questo concetto che la materialità mi schiena un po' indietro però il paradiso, il Ganede, Hashem sui mondi superiori per Hashem è tutta la stessa cosa il fatto che noi vediamo la materialità per virgolette senza un'apparente visione di Akorosh Barucho è un problema nostro, non è un problema di Akorosh Barucho è la nostra limitatezza che non ce lo fa vedere e qui c'è un esempio molto interessante cioè come un tempo non c'erano le telecamere nei negozi cosa si facevano? il padrone del negozio creava una specie di stanzina in mezzo al negozio dal di fuori sembrava una colonna piena di specchi ma il da di dentro non devono finestre quindi lui, il padrone del negozio per controllare i lavoratori, i clienti, eccetera in modo discreto cosa faceva? creava questa specie di stanzina con degli specchi a 360 gradi dentro operarono delle finestre e lui si metteva lì dentro quindi poteva controllare i lavoratori, i clienti tutti pensavano che questo era un cubo di specchi nessuno si immaginava che dentro c'era il padrone del negozio a controllare la prospettiva che noi abbiamo del mondo è chiaramente una prospettiva finita rispetto a quelle che sono le nostre capacità chiaramente quanto più noi studiamo Torah e più facciamo Mitzvot più diventiamo un bacino, tra virgolette capace da cogliere dei livelli di Kedusha più elevati ma la presenza divina c'è sempre la bontà di Akolash Baruch Hu sempre piove in giù la presenza di Hashem c'è sempre la domanda è che cosa ne faccio la domanda è se io sono qui a cogliere così con la braccia aperte corro da tutte le parti a prendere tutto come se piovessero onettine dal cielo oppure mi abbasso a cercare io delle soluzioni quindi do le spalle questo è anche il concetto che il popolo ebraico è un popolo di Nevi'im di profetti noi siamo tutti profetti la domanda è se abbiamo sintonizzato l'antenna oppure no e quindi sta a noi adesso come lavorare per sintetizzarla a questa antenna chiaramente chi è in Erz Israel c'è la Nevae di Erz Israel quando noi siamo in Erz Israel siamo nel nostro nel nostro siamo in armonia con dove siamo quindi Erz Israel ci dà le forze siamo in armonia con dove viviamo anche materialmente quindi siamo delle antenne per captare la profezia ma la profezia di Akadosh Baruch Hu scende sempre siamo noi che non siamo che dobbiamo rimetterci a posto per sintetizzarci quindi c'è la domanda della Dura Zakane è se lo scopo della creazione è per avere per creare in questo mondo materiale una casa per Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu si può rivelare nel modo più intimo e vero così come era al tempo di Adam e Chavà prima del peccato quindi l'essenza più alta di Akadosh Baruch Hu che si rivela dove? in questo mondo materiale perché lo scopo non è Ganede lo scopo è questo mondo materiale qui è il vero scopo in questo mondo giù dove sembrerebbe molto distante dalla divinità ma noi sappiamo che l'aneshama ha bisogno di scendere in questo mondo materiale inserirsi in un corpo perché altrimenti non le può fare le mitzvot non ha la stanza dei bottoni ha bisogno l'aneshama di una stanza dei bottoni ha bisogno dell'aneshama behemit che mantiene questo corpo che vuole mantenere il corpo in vita perché sennò l'aneshama ebbe elukit l'aneshama spirituale vorrebbe solo filare via e ritornare da Akadosh Baruch Hu cosa che permette che l'aneshama ebbe elukit di rimanere in questo mondo materiale? il nostro istinto vitale il fatto di mangiare, bere, dormire prenderci cura di noi questo mantiene l'aneshama e elukit l'aneshama divina dentro questo corpo materiale l'aneshama e elukit chiamano così tra virgolette sente nostalgia di Hashem però l'estinto di vita la nostra sintonia di sopravvivenza è più forte e quindi noi permettiamo all'aneshama di continuare a stare in questo corpo e continuare la sua missione quindi il vero scopo è questo mondo giù materiale questo mondo fisico anche un mondo dove rindonda il buio un mondo buio dove la presenza divina non è così evidente ma la luce divina è molto più luminosa e ha molto più effetto lì dove c'è il buio e non dove c'è tantissima luce l'abbiamo detto tante volte lì dove siamo in presenza di tantissima luce se io accendo la pila del mio telefonino non me ne accorgo neanche ma se io sono in cantina giù buia buia è saltata la luce e doveri trovare la mia porta le mie scale per tornare su e tutto quello che ho è un cerino un fiammiferino caspita quanto sarà potente quella luce sì quella luce per riportarmi dove devo andare quindi per forza di cose per poter portare giù e poter rivelare una luce infinita abbiamo bisogno del contrasto del buio perché noi abbiamo l'opportunità di trasformare il buio in luce ed è per questo che si dice che con questo conclude che quando c'è un balciuva quando qualcuno fa teshuva è come se fosse un arco che viene tirato un arco sapete c'è una parte una parte di legno rotonda è una corda quando noi vogliamo tirare una freccia come facciamo con l'arco estendiamo la corda tiriamo la corda cosa facciamo la corda tiriamo verso di noi verso il nostro cuore più io tiro più la mia freccia andrà veloce e andrà lontana perché ho un un getto più là più lungo quindi più ho questo movimento che è ampio quanto più la mia freccia andrà molto molto forte e molto lontana che cosa vuol dire questo movimento sembrerebbe un movimento di allontanamento ma in realtà io sto andando verso il cuore e quando noi facciamo teshuva e noi continuamente facciamo teshuva noi prendiamo tutto quello che sono stati tra virgoletta anche i nostri errori e prendiamo tutti quegli errori li trasformiamo in servizio di Hashem lì dove magari siamo inciampati diventa un'opportunità per camminare più forti più dritti per aiutare quello che è vicino a noi tutto quello che fa parte del nostro background diventa fondamentale per la mia crescita spirituale per questo si dice che il rabbi tante volte lì dove arriva il balciuva arriva dove chi fa si fa pentimento ma non è pentimento quando ci ricerchiamo ci ritroviamo lì dove poi il balciuva anche il più grande non arriva perché abbiamo preso tutto questo lavoro è come se facessimo ci facessimo un buco sotto i piedi ci facciamo un buco sotto i piedi noi piano piano scendiamo giù nelle sabbie mobili scendiamo giù 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 e poi un giorno cominciamo a riscalare il nostro buco e ritorniamo verso la luce torniamo su 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 tutta questa forza tutto quello che noi abbiamo imparato stando giù tutti quegli errori tutte quelle mancanze tutte quelle sviste tutte quelle cose che ci hanno che non ci parevano giuste diventano tutto materiale fondamentale ricchissimo per la nostra teshuva e abbiamo fatto una grande bella ginnastica quindi la cross for who ci permette questo processo perché proprio questo processo è un processo di apprendimento non questo che dobbiamo dire nessuno fa errori per la voglia di fare errori ma se succede di aver fatto degli errori abbiamo deciso abbiamo preso delle buone risoluzioni di cambiare quello che abbiamo fatto piano piano un passo dopo l'altro tutto quello che è stato fatto diventa un bagaglio ricchissimo per il miglioramento noi in questo mondo materiale dove sembra tutto buio possiamo aggiungere una luce trasportare la luce si dice che secondo noi siamo tutte chassidiot tutte dice che dove arriva un chassid cambia l'ambiente cambia l'aria ricordiamoci che noi abbiamo la forza l'opportunità e il privilegio di cambiare lì l'atmosfera lì dove andiamo che Hashem ci dà le forze quando siamo quando siamo inviati di Hashem quando noi facciamo quello che dobbiamo fare le forze che riceviamo non sono nostre le riceviamo a gratis le riceviamo da Hashem quando noi stiamo facendo qualcosa che dobbiamo fare le forze che riceviamo che sono le forze soprannaturali le parole che dobbiamo dire che sono parole che non avrei mai pensato di dire ma le dico l'energia di alzarmi dal letto e di fare quello che devo fare pensiamo alle mamme che Dio le benedica che hanno magari anche tanti figli magari anche lavorano chissà dove trovano l'energia la pazienza il self control di non di rimanere al posto giusto nel modo giusto di crescere i loro figli insomma uno dei lavori più difficili da dove viene perché quando facciamo quello che è il nostro lavoro lasciamo che chiede da noi facciamoci dare il cocco alle forze quindi ricordiamoci che lì dove siamo possiamo cambiare l'ambiente la virà possiamo portare un sorriso a chi sta intorno a noi possiamo portare che riusciare lì dove ci troviamo senza giudicare senza rimproverare quando noi cerchiamo l'amore dentro di noi per chi sta fuori di noi sta vicino a noi automaticamente questa persona diventa una spugna quello che noi vogliamo passare con un messaggio in questa nostra mission e cominciando con noi stessi con chi ci sta intorno e lavoriamo sulla chludia a Mestrel Moshek sta arrivando è chiaro è già qui non è che sta arrivando è già qui semplicemente dobbiamo imparare a aprire questi occhi cambiare gli occhiali imparare a percepire e fare quello che manca da fare e e e come dice il Shira 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 Malot e era come se stessimo sognando ci dice ci dice anche che ho studiato bellissima di Purim dice noi come se stessimo sognando noi abbiamo cos'è la differenza tra la realtà il sogno che il sogno le nostre i nostri sensi non sono veramente tutti attivi non ci possiamo muovere ma noi non vediamo vediamo internamente rivediamo quello che abbiamo fatto la giornata e non sentiamo in teoria a parte le persone troppo sensibili ma in teoria non sentiamo una persona dorme pesantemente e però è come se vivessimo in un mondo parallelo abbiamo dei sogni in dei sogni possiamo avere delle emozioni possiamo sentire delle cose possiamo dire delle cose possiamo avere anche delle paure ma queste paure non sono vere sono finte e quando io mi sveglio dal sogno dico ah meno male era un sogno non è vero e quindi quello che ci dice c'è anche anche il 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 teilim ma chiaramente ce lo dice attraverso tutto anche le tefilot noi stiamo abbiamo paura di cose che non sono reali abbiamo ci facciamo problemi su cose che non sono non hanno veramente senso riconnettiamoci con quello che è veramente importante riconnettiamoci con quelle che sono le priorità e il resto non e da lì riusciremo meglio a coordinare i nostri sensi così come dovrebbero essere come se dovrebbero essere svegli da svegli non da addormentati quindi il rabbi ci ha detto migliaia di volte noi siamo l'ultima generazione del galut la prima della geula in modo rivelato una persona che non che specificamente non studia Torah in modo regolare ha detto il sole è diverso cioè è come se non avesse un velo e si dice guarda l'hai detto tu non l'ho detto io c'è scritto che nel tempo di Mashiach Hashem tira il velo dal sole e e anche Hashem dice che ci circoncide i nostri cuori ci fa ritornare i nostri cuori di pietra li fa diventare dei cuori di carne di sangue vuol dire che ricominciamo a sentire e siamo tutti in questo processo di ritrovamento di noi stessi dell'amore di Akkadosh Baruch Hu tutti che cerchiamo l'amore di Akkadosh Baruch Hu dentro di noi quando noi sentiamo l'amore di Akkadosh Baruch Hu non abbiamo paura non siamo arrabbiati non siamo frustrati automaticamente ci sentiamo guariti di tutto quello che questi duemila e passa anni di lontananza ci ha causato come nostalgia per Akkadosh Baruch Hu Hashem dice lì dove facciamo entrare Hashem Hashem entra quindi sta a noi aprire le braccia le porte e lasciar Akkadosh Baruch Hu entrare e questo è un lavoro che devi fare attraverso la Simcha la nostra generazione la generazione che deve investire tutte le sue forze lo dico a me nella Simcha se noi siamo in Simcha facciamo la nostra Shihut tutto diventa più semplice e accogliamo come sempre come sempre con gioia e pienezza del cuore dedichiamo questo Shihur alla mia morà che la settimana prossima è il suo Yorzai che dava il beneficio del dubbio sempre a pensare dare un'interpretazione buona alle persone giudicarle positivamente perché quando noi giudichiamo gli altri e anche noi stessi positivamente tiriamo fuori quella parte di loro tiriamo fuori quella parte buona delle altre persone le guardiamo così e quindi automaticamente è quello che emerge con il nome di Nishmata mi chalbat Shmua Echai mi ha kugina adina banger hachel David ben Yosef Yitzchak ben Yosef tutti quelli che ci hanno lasciato recentemente Rave Shmua al-Kohen ben Yosef che possiamo investire e aver successo nella nostra vodà di affiduti am Yisrael e Zatashem misurrot tovot manash ben Yosef ben Yosef Grazie.